Dunque, fratelli, con questa crisi è arrivato il momento che la politica italiana dì al meglio di sé. E allora io mi chiedo, perché non pensare a lui? No, ma, no, lo so che reagite così, però no, 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 no. Dunque, lui, come pacere, credetemi, sarebbe ottimo. De Luca, il cofiannante di Salerno, credetemi. Allora, vabbè, ma allora ridiamo, buttiamo la tuta sul ridere, cioè, però, cioè, veramente. No, ma perché? Lui non è solo bravo, ma lui è proprio un vero patriota, se lo dice da solo, eh. De Luca, sui rifiuti dalla Tunisia, noi patrioti. Io non so, credo che si riferisse, cioè, c'è una strana disputa sui rifiuti tra Italia e Tunisia. Io non ci ho capito un granché, ma, credetemi, però, seguiamolo un attimo in questa sua narrazione. Lui ci racconta bene che cosa è accaduto tra Italia e Tunisia riguardo a questi rifiuti. È un po' misteriosa la cosa, però lui ne esce fuori come patriota. Sentitelo.